Ciao a tutti e benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. Oggi sono qui con una scultura della Playmobil, se così si può chiamare, uno special plus, che qui vedete è composto da un artista vera e propria, che crea questa scultura, questo drago ghiacciato, che, scusate, che è il numero 5374 della Playmobil, guardiamo all'interno cosa ci propone e vediamo di realizzarlo. Allora, qui intanto possiamo vedere tutti gli attrezzi che servono alla nostra artista per realizzare la scultura di ghiaccio. Questo drago alato, molto molto bello. Vedete, questa è una sorta di paletta, un pennellino, poi c'è un altro pennellino più fine, qui è caduto, non so bene cosa sia, è un martelletto, sì, per incidere magari l'altro. E qui abbiamo la nostra artista con i suoi super occhiali, super vestita, perché comunque per realizzare una scultura di ghiaccio dovrà essere necessariamente in un posto molto freddo per mantenerla, quindi il suo caschetto e il metto, molto con questo maglioncino molto carino, arombi, colorati, i suoi stivali invernali, ha addirittura una collana, wow, per non farsi mancare mai nulla, per farsi riconoscere come vera artista anche al Polo Nord. Ah no, è uno scaldacollo, ok, ci siamo, ok, molto più utile. Ed eccola qui la nostra super artista, pronta a realizzare la scultura. Qui abbiamo un secchiello con tutti, dove mettiamo all'interno tutti gli attrezzi necessari. E ora procediamo a innanzitutto mettere i guanti, perché non credo che sia molto simpatico lavorare con il ghiaccio a mani nude, non penso proprio, e soprattutto a temperature polari, come quelle con le quali devono lavorare, e procediamo a costruire il nostro super draghetto. Vedete che qui è di un colore trasparente, mentre sulla scatola era un po' più blu, tendente al blu, ma questo perché ovviamente è per far capire che è ghiaccio, ma a noi ci basta questo. Inseriamo le ali. Eccolo qui. E il nostro draghetto è pronto e anzi finito. La scultura è finita, rimane bene in piedi, grazie appunto ai piedi piatti in questo modo. E la nostra artista può dire di aver realizzato qualcosa di veramente grande, veramente grosso, veramente freddo, e davvero molto bello, molto imponente. Eccola qui. Con il suo caschetto un po' caduto, vi saluta, il drago vi saluta, e noi vi salutiamo a nostra volta, e vi ricordiamo di lasciarci un like se il video vi è piaciuto, di seguire tutti i nostri video, nel caso in cui vi facesse piacere, e di iscrivervi quindi al nostro canale, se siete interessati a rimanere connessi con noi, come sempre, tutte le settimane, tutti i giorni, con i nostri nuovi video. Noi vi salutiamo, io vi ringrazio, spero che questo kit mini special plus vi sia piaciuto, e ci vediamo alla prossima con tante, tante, tante nuove novità. Grazie a tutti.